Da oggi alla Casa della Salute si vaccina. Una persona vaccinata ogni sei minuti, un grande impegno da parte di voi medici. Sì, la medicina di famiglia ancora una volta in questa emergenza si mette a disposizione del cittadino con una presenza capillare e rispettando quelli che sono gli accordi regionali si aderisce alla vaccinazione nel proprio ambulatorio, nelle sedi vaccinali e in questo caso nella medicina di gruppo. Quindi la Casa della Salute di Omenia, medicina di gruppo, in cui operano nove medici di medicina generale. Nella pausa pranzo, quindi da mezzogiorno alle due, in modo da non interferire troppo con l'attività di tutti i giorni del medico di medicina generale, ogni sei minuti effettuerà la vaccinazione anti-Covid da mezzogiorno alle due e il sabato invece la giornata intera. Quindi dal mattino alle otto e mezza fino alle dodici e trenta una piccola pausa e poi si riprende alle tredici e trenta fino alle diciotte e trenta. Un grande impegno che ci prendiamo volentieri noi medici di medicina generale per renderci operativi e per rendere questa vaccinazione anti-Covid sempre più capillare nel territorio. Un esempio virtuoso che speriamo possa essere recepito da altri. Sì, assolutamente sì. È importantissimo perché noi come organizzazione, come azienda sanitaria, ci siamo riservati la popolazione dei centri vaccinali grandi dove possiamo erogare molte vaccinazioni al giorno. Mentre viceversa, in questi modelli organizzativi si possono raggiungere le persone più vicine al loro domicilio. Qui a Omenia non è il caso, ma ci sono territori che invece avrebbero tanto bisogno di essere raggiunti perché sono più complicati. Quindi loro qui faranno un bellissimo lavoro anche con riferimento a persone di altri comuni. Quindi potranno fare un importante numero di vaccinazioni man mano che apriremo gli slot. E speriamo tanto che anche negli altri territori dell'azienda i medici si rendano disponibili a seguire l'esempio perché, come dico, ce n'è bisogno. Un territorio virtuoso è il nostro, possiamo dirlo anche nella somministrazione dei vaccini. Insomma, la campagna sta andando bene, molto meglio rispetto ad altre province e altri territori in Italia. Ma stiamo facendo tutti un grandissimo sforzo. Ci sono territori complicati per motivi orogeografici come il nostro. Ci sono territori complicati da complessità anche di popolazione, di numerosità della popolazione. Quindi ogni territorio ha le sue difficoltà. Per noi è importantissima questa grandissima collaborazione istituzionale che si sta verificando. Quindi siamo riusciti a risolvere tanti problemi proprio perché stiamo collaborando con molti. e poi c'è grande fiducia nell'organizzazione sanitaria. È una cosa bellissima. Speriamo di continuare a meritarcela e quindi le cose stanno andando bene anche in termini di adesione. Abbiamo visto che anche nei momenti più difficili in cui c'è stato un po' di disorientamento da parte dei pazienti sulla questione dei vaccini, sulla fiducia dell'efficacia di alcuni vaccini o sulla loro eventuale pericolosità, le persone nel nostro territorio non abbiamo avuto grandi problemi. Le persone hanno capito e hanno continuato a venire con fiducia e questo è veramente molto importante.